Eccoci qui ragazzi, finalmente dopo molte richieste, eccoci qui con il nostro cucciolone da addestrare da zero Fatti vedere Lucky Junior, figlio di Lucky Eira Primo giorno, primo giro in macchina, primo tutto Partiamo proprio dalle basi, quindi piccola tratta di macchina Ha sbavato, però è normalissimo Io monto un GPS per sicurezza, non perché mi deve andare a fermare le beccune a chilometri Quindi per sicurezza Niente, gli facciamo fare un giro attaccato, a guinzaglio Per poi premiarlo e sganciarlo un po' È vero? Fatti vedere, fatti vedere Eh, facciamo giusto il giretto Vieni dai Non l'ho mai sganciato Vediamo un po' cosa combina Dai dai Primo giretto per lui, mai sganciato Su, 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 su Ovviamente il punto di riferimento, se no io Su, su Dai dai Ovviamente ragazzi non vi dovete aspettare chissà cosa Deve semplicemente sgambettare Seguirvi un po', non bisogna ovviamente Perderlo di vista Nulla, le prime uscite sono così Non vi aspettate che il cane inizia a Galoppare come un cane grande Lui ha Quasi cinque mesi Il 29 fa cinque mesi Nulla, vedi Già si inizia ad allontanare un po' Su, 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 su Anche se il terreno non permette Perché È un po' mosso Ma è il terreno Disponibile Più vicino Proprio per non fargli fare Più di 20-30 minuti di macchina Perché appunto è la prima volta Su, su, su Questa cosa serve? Io direi quasi a tutto Bisogna farlo sgambettare Bisogna fargli prendere confidenza Con uno spazio aperto Visto che fino ad ora è stato In un box Si è fatto poche uscite Davanti al box Con una lunghina Visto che Non abbiamo un terreno Super super disponibile Serve a prendere fiducia A capire che Si può allontanare E deve avere un collegamento All'inizio farà due tre passi Poi pian piano Si allungherà Ovviamente è come un bambino Ai primi passi Stessa cosa È identica la cosa Non vi preoccupate Se ci saranno movimenti di coda Tutte quelle cose Da esperto È un cucciolo È un bambino Che deve iniziare prima a camminare Poi a trottare E poi a galoppare Ovviamente il bambino Non trotta Non galoppa Su Lucky Su 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 Ovviamente Si servirà anche Ad associare Il suo nome Perché per lui Non è una cosa scontata Cioè Per noi è una cosa scontata Per lui no Ecco Su 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 Lucky Su 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 Guardate quanto è impacciato È curioso però Su 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 Lucky Su 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 Andiamo andiamo E' già Stanto Il provolone Vedete Inizi a interessare Di qualcosa Passato Forse qualcosa Un gatto Così Vedete 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 Come fa un bel espressione Su 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 Che dire ragazzi Siamo giunti Al termine Di questo Piccolo Di questa piccola uscitina Lucky è qui Seduto Lucky Bravo Che si crea il primo rapportino Lui è uno dei quattro fratelli È il primo ad uscire Seduto 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 Vieni qua Lui è uno dei quattro fratelli Poi uscirà Lara Liu E Arno Lui è il piccolo Lucky Lucky Junior È bellino Bellino Con questo testone Lui è stanco Inizia a far buio E ci ritriamo Salutiamo Ciao Ciao Grazie a tutti Ciao Ciao